Sindaco Mastromauro è stato allestito il cartellone estivo di Giulianova, il Clu, la notte alta, la notte bianca, poi ci saranno anche tanti concerti. Nonostante le ristrettezze economiche siete riusciti a garantire un'estate di divertimenti ai giuliesi e ai turisti? Sì, dice bene, c'è una situazione socio-economica che purtroppo affligge tutti i comuni d'Italia con i tagli che abbiamo dovuto operare a seguito dei tagli statali e regionali. Abbiamo garantito anche quest'anno il calendario di Giulio 20 estate, ogni giorno un'iniziativa facendo di necessità virtù. Io ringrazio tutte le associazioni sul territorio e il lavoro degli uffici, in pochi giorni insieme al nuovo Assessore alle manifestazioni del turismo e la cultura, Pierangelo Di Robaldi, siamo riusciti ad allestire il tutto. Lanciando un'idea, naturalmente, questo è un calendario che io dieci anni fa mi inventai quando ero Vice Sindaco e Assessore a Ramo, abbiamo continuato con me Sindaco negli ultimi cinque anni e lo faremo nei prossimi cinque. Tutta la città, teatro di iniziative, adesso investiremo molto sul settore cultura, sul turismo e sulle manifestazioni in maniera tale da far camminare con le proprie gambe questo cartellone. Tenga presente che negli ultimi anni sono stati creati anche insieme ai commercianti e agli operatori turistici tante iniziative, dopo Calice e Musica al Chiaro di Luna del 2005, ormai la decima edizione, che ogni giovedì viene organizzato via Leorsini e via Nazario Sauro e che è stato copiato da tante altre località. Dall'anno scorso nella parte alta di Giulianova, il mercoledì ci attenti all'Uppolo che investe tutto il centro rinascimentale, con la notte alta lo faremo pure, con la notte bianca. Ecco, c'è un nuovo atteggiamento, poche risorse, tanto impegno, tanta passione, una rete di soggetti che fanno intrattenimento, cultura e lo fanno senza chiedere nulla in cambio.